ciao amici lo so siamo chiusi in casa e la paura di ingrassare cresce ogni giorno di più proprio come il mio giro vita appunto è facile lasciarsi andare scaricare l'inevitabile tensione sul cibo questo è un argomento molto hot e il mio primo consiglio è guardare i consigli del mio canale ci sono tanti video dedicati all'alimentazione sana e al dimagrimento senza dieta ho anche preparato un regalino per voi lo trovate alla fine del video comunque siccome in tanti mi avete chiesto altri consigli specifici per la quarantena oggi voglio condividere con voi sette trucchi anti grasso per non ingrassare restando chiusi in casa se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 mangiare più lentamente abbiamo tutto il tempo per farlo giusto mangiare con calma e masticare a lungo aumenta il senso di sazietà fa assimilare meglio i nutrienti allunga le pause tra un pasto e l'altro 2 mangiare un po meno ci stiamo muovendo meno consumiamo meno calorie abbiamo bisogno di meno cibo una buona idea è servire in tavola i piatti già razionati magari fai un piatto unico con il pasto completo 3 cominciare con frutta e verdura avete mai provato a fare un'insalata mista e metterci anche la frutta fresca è ottima e se la si mangia all'inizio del pasto come prima portata ci si sazia prima e si resta più leggeri 4 ridurre i grassi non serve buttare litri di olio e burro e pancetta in tutte le ricette per avere un buon condimento usare al massimo un cucchiaino di olio per condire l'insalata o la pasta è un buon inizio si possono usare anche oli più leggeri come l'olio di semi e per i dolci sostituire il burro con olio o con margarina vegetale però bio e di qualità mi raccomando 5 cuocere leggero si siamo in casa e abbiamo tempo di cucinare ma meglio stare sul leggero se ci buttiamo su fritti soffritti e intingoli vari cosa succede alla lancetta della bilancia meglio la cottura al vapore o stufata che sono più leggere 6 tante proteine preferire un'alimentazione proteica con proteine magre come carne bianca e legumi ma anche uova soia tofu seitan le proteine si mangiano preferibilmente di un solo tipo alla volta e abbinate a tante verdure 7 alternative al pane attenzione al pane non solo a tavola ma anche fuori pasto si presta a tanti spuntini calorici io non lo compro lo faccio in casa oppure lo sostituisco con polenta semolino patate lesse che fuori pasto non costituiscono una forte tentazione direi se volete preparare qualche spuntino goloso ma light trovate in descrizione un regalino sono le mie merende dimagranti con i frutti rossi così facciamo anche il pieno di antiossidanti amici del sistema immunitario bene amici ecco alcune indicazioni ne seguiranno altre nei prossimi giorni restate connessi condividete questo video il problema riguarda tantissime persone se volete approfondire le ricette per stare sempre in forma andate nel mio sito alla sezione ebook mangia sano vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali